Ben ritrovati ragazzi dal vostro Bentitus, siamo tornati nuovamente a parlare di Ubuntu come potete notare anche dalla schermata alle mie spalle, siamo sempre sulla nuovissima versione LTS la 24.04 ed oggi ci concentreremo nella fattispecie nella personalizzazione di questa distribuzione che comunque sia resta sempre tra le più diffuse e conosciute nell'ambiente GNU Linux ma prima di iniziare, spazio con la sigla Ed eccoci qui tornati nuovamente a parlare di questa distribuzione che se ne voglia dire di lei delle sue politiche, della sua evoluzione nel corso del tempo comunque resta una delle distribuzioni più conosciute dagli utenti GNU Linux ma anche da quelli che guardano GNU Linux a distanza un po' quegli utenti un po' sfiduciati di Windows che vorrebbero avvicinarsi a GNU Linux ebbene si avvicinano soprattutto con una di queste distribuzioni ma chiusa questa breve premessa andiamo nel nocciolo di questo video cioè la personalizzazione di Ubuntu 24.04 perché ho voluto fare un video dedicato a questo aspetto ebbene qualche utente mi ha fatto notare che sta avendo un po' di difficoltà nella personalizzazione dell'interfaccia grafica di Ubuntu possono essere alcune le ragioni una di queste sicuramente il fatto di aver utilizzato sempre in maniera più invasiva Snap all'interno di questa distribuzione non dandovi la possibilità ad esempio di andare a installare pacchetti esterni in formato DEB se non attraverso alcuni tool che poi dovete voi scaricare successivamente abbiamo fatto anche un video in merito a questo e allora per questo motivo ho voluto creare questo video che vi guida passo passo anche nella personalizzazione dell'interfaccia grafica di Ubuntu 24.04 LTS si può fare tranquillamente anche con questa distribuzione e oggi lo vedremo insieme innanzitutto di che cosa abbiamo bisogno per poter procedere innanzitutto qui vedete alcune applicazioni che non sono presenti di predefinito su Ubuntu 24.04 LTS e vediamo se li avete già notate gestore pacchetti Synaptic l'ho voluto installare più che altro per il mio cruccio in quanto qui ho una gestione ottimale di tutti quelli che sono i pacchetti presenti sulla mia distribuzione installatore pacchetto GDB questo è fondamentale perché se volete appunto andare ad installare dei file esterni dalla vostra distribuzione, dal vostro store ebbene vi consiglio vivamente di utilizzare questo tool perché? perché l'applicazione predefinita di Ubuntu App Center non vi dà questa possibilità e poi ovviamente è importante installare anche Gnome Software che rappresenta un po' il fulcro che vi dà la possibilità oltre che di installare i file deb perché Gnome Software vi dà questa possibilità a differenza dell'App Center di Ubuntu che per carità per quanto ha avuto delle migliorie in termini prestazionali scritto completamente in Flutter da Canonical stessa va bene, gli diamo merito ma comunque continua a tirare la barca al suo mulino l'acqua al suo mulino non la barca e quindi questo non vi dà la possibilità di andare ad installare delle applicazioni esterne e allora in questo caso abbiamo provveduto ad utilizzare ecco che adesso ho cliccato qualcosa per sbaglio e ho creato una cartella inutile vabbè e anche questo è il bello della diretta comunque qui avevamo il gestore pacchetti GDB vedete ha la sua versione l'abbiamo installato tranquillamente dei repository ufficiali basta fare appunto faccio vedere anche una serie di applicazioni allora questi sono un attimo i comandi che ci permetteranno di andare a personalizzare la nostra interfaccia sudo apt install gnome2x che cos'è? gnome2x ebbene sono le personalizzazioni di gnome che io reputo indispensabile se voi volete utilizzare questa interfaccia grafica e volete personalizzarla modificarla ok? e ce l'abbiamo qui poi abbiamo installato anche vediamo un attimo GDB che lo avete visto prima abbiamo installato anche gnome software e poi synaptic che è questo diciamo lo potremmo lasciare anche in maniera opzionale perché comunque va utilizzato con un certo criterio perché su synaptic si potrebbero combinare davvero dei macelli se andate ad eliminare dei pacchetti importanti quindi non lo consiglio per chi è estremamente neofita allora diciamo lo tengo da parte questo pacchetto e allora poi dovete andare su gnome software una volta che l'avete scaricato un ottimo programma di gestione delle applicazioni dove qui innanzitutto voi potete gestire disinstallare tutte le applicazioni che voi avete ma vi dà la possibilità anche di visualizzare delle applicazioni che non sono visibili attraverso l'absente di Ubuntu tra questo ad esempio il gestore delle estensioni infatti ora facciamo una prova insieme vedete il gestore delle estensioni che vi dà la possibilità di andare a personalizzare in maniera approfondita la vostra gnome perché altro non è Ubuntu che è una gnome personalizzata beh questo non è possibile farlo se noi andiamo ad aprire lo store di Ubuntu ce lo mettiamo qui così lo mettiamo a confronto se scriviamo estensioni vedete che non ci trova assolutamente nulla e quindi quindi non vi dà nemmeno la possibilità di poter installare invece qui il gestore di estensioni ve lo prende direttamente dai file dai repository ufficiali di Ubuntu in formato deb fatto questo che dobbiamo fare? ci apriamo il nostro gestore di estensioni mettiamo accantoniamo completamente l'app center che me ne voglia Canonical però ovviamente qui potete tranquillamente gestire tutte le applicazioni che sono presenti sullo snap store se avete degli snap installati non voglio entrare in questo merito perché l'ho già fatto e tantissimi altri lo hanno già fatto quindi rischierei di diventare anche un po' pesante sotto questo aspetto non voglio giudicare il modo di operare di una determinata azienda ma adesso stiamo parlando invece della sua personalizzazione quindi apriamo il gestore di applicazioni e qui vedete che vi dà la possibilità di andare ad gestire quelle che sono le vostre applicazioni infatti vedete che lui in automatico già mi riconosce le quelle predefinite di Ubuntu vedete che sono ve ne accorgete dalla chiocciola chiocciola ubuntu.com chiocciola ubuntu.com e così via ciò significa che queste sono delle applicazioni create scusate delle estensioni create appositamente da ubuntu chiaro quindi se io vado ad esempio a togliere di qui la doc la doc mi sparirà se invece la vado a mettere mi riappare se ci clicchiamo qui possiamo andare a fare ulteriori personalizzazioni di questa doc ma questo può essere un esempio però un aspetto fondamentale è che voi dovete avere attivata questa estensione che non è presente su ubuntu e allora come si può fare ebbene basta andare semplicemente in browse e qui praticamente lui vi dà la possibilità di cercare delle nuove estensioni e ve la mette già tra le prime perché in questo modo voi potete tranquillamente personalizzare la vostra shell quindi questo è importante è fondamentale farlo fatto questo quindi dopo aver abilitato user teams aver installato i gestori delle estensioni aver installato gnome software gestore pacchetti gdb e così via possiamo procedere alla fase successiva cioè e i temi in sé per sé come fare molto semplicemente scarichiamo un tool ocs url questo è un tool che lo prendiamo direttamente da open desktop ed è un tool che vi permetterà appunto di andare ad installare in maniera automatizzata i temi presenti direttamente da da gnome look che rientra sempre nel dominio open desktop in questo caso noi facciamo un download formato ubuntu punto deb intendiamo che faccia lo scaricamento ci metterà davvero pochissimo perché vedete che è molto piccolo il file lo apriamo anzi l'ho già scaricato tra l'altro possiamo fare vedete in questo caso o con install software e ora vedrete che lo 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 visualizza già è da notare questo rumore assurdo che sentite sembra che c'è un treno merci ma credo che sia un un camion della nettezza urbana quindi lo potete installare o attraverso il gestore gnome software oppure potete installare anche con il gestore installatore pacchetti gdb che io lo reputo molto più veloce vedete anche in questo caso che potete fare tranquillamente installa quindi fatto questo chiudiamo perché lo abbiamo già tranquillamente installato e allora a questo punto il gioco è praticamente fatto ora ci spostiamo su gnome look andando su gnome look che fa parte abbiamo detto sempre di opendextop.org vedete che qui potete trovare i vostri temi preferiti come ad esempio temi gtk 4 qui potete metterli in ordine di valutazione o anche i loro preferiti stessi ad esempio proviamo a mettere proviamo a mettere andiamo per rating white sur gtk team adesso si rifà un po' al mac facciamo installa facciamo white sur dark ci clicchiamo e vedete che in automatico ocs url ci riconosce l'url ovviamente voi non lo vedete perché abbiamo già abilitato il browser nell'aprire in maniera automatica questi questi link nel caso mio quindi non lo vedete ma nel vostro caso vi uscirà un pop up all'interno del vostro browser dove lo potete selezionare in maniera automatizzata lui vi troverà la vostra applicazione ucs url che vi darà la possibilità di installarlo fatto questo vedete davvero ci mettete pochissimo stessa identica cosa per quanto riguarda ad esempio l'icone anche qui andiamo per rating giusto per volerlo fare un po' simile al mac eccolo qua eccolo qui facciamo stessa identica cosa install mettiamo white sur prepare to load e in automatico ucs url fa il suo dovere ci metterà un pochino perché un pochino alla fine 4 4 mega chiudiamo il tutto ora ora è importante adesso il ruolo di delle personalizzazioni di gnome e le personalizzazioni di gnome in questo caso sempre gnome software vi può aiutare perché anche qui se andiamo su gnome software lo troviamo se andiamo su app center no vedete app center trova solo le applicazioni che a ubuntu conviene praticamente quindi tutti i pacchetti snap e tutto ciò che invece è al di fuori non ve lo fa vedere perché deve gestirlo lui e voi non dovete sapere quello che sta facendo quindi andiamo ad aprire personalizzazioni di gnome andiamo questa volta ad aspetto e vedete che siccome abbiamo abilitato i temi attraverso il gestore degli estensioni vedete ci dà la possibilità di andare a modificare anche la nostra shell in questo caso volendo fare un lavoro più completo facciamo così cambiamo la nostra la nostra shell vedete yaru white sur cambiato vedete sopra la barra ma vedete che c'è anche una modifica qui possiamo anche qui andare a modificare le applicazioni datate ecco che ha fatto qualche altra modifica possiamo andare a modificare anche quelle che sono le nostre icone white dark ecco vedete come sta prendendo tutto forma vogliamo fare altre personalizzazioni bene possiamo anche tranquillamente andiamo un attimo a personalizzazioni no scusate non era personalizzazioni ma era estensioni possiamo andare a modificare anche la doc di qua volendo anche se possiamo modificarla anche delle impostazioni di ubuntu stessa e mettiamo aspetto all'inizio delle applicazioni posizione vedete possiamo mettere in basso possiamo mettere anche nascondi in maniera intelligente modalità pannello vogliamo lasciarle invece in modalità doc questo modo vedete che abbiamo preso il tutto molto mac style cambiamo anche lo sfondo mettiamo questo che magari si avvicina un attimo e vedete che ci ha cambiato anche l'interfaccia e anche qui nelle impostazioni come è cambiato un po' il tutto stiamo utilizzando sempre la nostra ubuntu qui vedete le file ci ha cambiato tutte le nostre icone devo dire che il risultato è abbastanza carino volendo giusto per completare il tutto vi faccio vedere anche come si possono modificare e personalizzare anche i cursori andiamo su sempre gnome look vedete cursori mac os possiamo mettere sia quello chiaro che quello scuro prendiamo questo facciamo install ce lo installerà tranquillamente perché abbiamo installato il nostro ottimo csr o csurl finito andiamo di nuovo a personalizzazione e adesso vedrete che in aspetto anche il cursore verrà cambiato c'è white oppure scuro anche qui andiamo un attimo a gestore delle estensioni vedete come anche la rotellina carica proprio lo stile mac se andiamo anche un attimo a ubuntu doc possiamo nascondi automaticamente vedete 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 che qui ci sono diversi comportamenti se non vi piace questo tipo di doc c'è anche dash to doc dash to doc che è sicuramente molto più completa infatti adesso nelle installate andiamo a disabilitare quella di ubuntu e lasciamo dash to doc facciamo così anche in questo caso vedete che le personalizzazioni sono davvero molteplici e qui possiamo andarci a mettere tranquillamente tutte quelle che sono le nostre impostazioni vedete come alla fine la nostra interfaccia è stata altamente personalizzata bene diciamo questo è stato un piccolo esperimento insieme per vedere come è davvero fattibile la modifica i cambiamenti che si possono fare su una ubuntu 24 04 LTS ci sono alcune procedure alcuni passaggi che vanno fatti però alla fine il risultato ottimale è davvero gradevole ed apprezzabile spero che vi sia stato utile per voi questo video e vi aspetto sempre per altri video sul mio canale e ci vediamo una prossima sempre qui dal vostro pentitos ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti